Luciano lo giudice era convinto di avere in pugno le istituzioni. Non hanno dubbi i giudici della Corte d'Appello di Reggio Calabria nelle motivazioni della sentenza di secondo grado del processo Daudes. Il rampollo della famiglia mafiosa di Santa Caterina, fratello del pentito Antonino e già al centro di importanti vicende riguardanti la città dello stretto, aveva un ruolo peculiare. Non certamente quello di dedicarsi a danneggiamenti, minacce e estorsioni, di cui pure in alcuni casi fu il mandante, ma essere il volto imprenditoriale del clan gestendone il patrimonio immobiliare, ma soprattutto curare i rapporti con pezzi dello Stato. Luciano lo giudice, scrivono i magistrati, pensava di ottenere l'impunità grazie alle amicizie che credeva di avere all'interno della magistratura. La sua asserita collaborazione alla cattura del boss Pasquale Condello e il Supremo gli aveva fatto credere di avere in pugno le istituzioni. Un convincimento divenuto più concreto anche grazie alla figura del capitano dei carabinieri Saverio Spadaro Tracuzzi, che in cambio di denaro, viaggi, soggiorni e auto di lusso, spifferava allo giudice notizie riservate su imminenti operazioni di polizia. Informazioni che il boss rivendeva poi all'interno dell'andrangheta, accrescendo il suo prestigio. Un gioco finito malissimo per entrambi, Luciano lo giudice dovrà scontare 13 anni e 9 mesi di prigione, l'ex capitano rimarrà in cella per 10 lunghi anni. Consolato Minniti per la Cineus 24.